ragazzi mamma voglio stare vicino a papà oggi è il gran giorno sì finalmente ci siamo la mia Grazie a tutti. Ah, devo fare un video unboxing! Buongiorno a tutti, miei fans! Sì, l'ho detto, ma speriamo che qualcuno veda il mio video. Al momento ho solo due iscritti, mia madre e mia zia. Cari fans, come suona bene, fans! Per voi oggi ho un video unboxing. Finalmente il pacco è arrivato e vi farò vedere quello che ho ordinato. Ci siamo! Ora lo apriremo insieme. Questa pallina mi servirà per giocare a pallavolo. Questa la potrò usare per giocare a tennis. Com'è bella questa scatola! Ci siete? Ora apriamo il mio pacco. Guardate che ho comprato! Questa è un'anti-stress perfetta per i miei clienti che mi fanno sempre arrabbiare. Poi abbiamo un cuscino che massaggia il collo. Perfetto per i miei riposini. E poi... Questa è la cosa più bella. Eccolo qui! Fatto! Ora lo proviamo. Ah no! Così non si sciupa nemmeno. Alla salute, fans! Giù! Tira gli l'implonte! Ma non ridere! Vai indietro, vai indietro, vai avanti, vai avanti, vai avanti! Dietro, dietro! Vai, vai, vai! Devo fare proprio un video unboxing! Buonasera, amici! Non so che cazzo devo dire! No! Mi sono scoperto! Buonasera, amici! 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 Grazie a tutti